Vieni, addirittura mi stai regolando la mia morte, ma che personaggio sei? Metto il prezzo e affrontiamo il prezzo. Vieni qua. Lancia ippi, Siron. Anno 2015, GPL Casa Madre. Vieni qua. 6.300 euro. Casa Madre. E tu lo sai bene. Vieni qua. Allora, se vuoi andare solo di gelosia e auguro la mia morte, io in questo punto ti auguro che sei una persona squallida, che non fai una cicca di tabacchi, ok? Non ti prendi la colla, perché io fino a ora tu non mi hai risposto solo che prezzo, ok? Va bene così. Mangi questa caramella e l'acqua e tutto il rucchio. Ciao, questo è l'ultimo modo che ti rispondo. E ti auguro il malato? Il suo e il suo re da porto, compagno a me. Ciao, auguro 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 a me. In...